24 ore di pochi giorni fa emerge un quadro del settore infrastrutturale che lei guida per questo governo estremamente negativo. Le cause sono individuate in modo a nostro avviso oggettivo, investimenti che diminuiscono negli ultimi anni, vincoli del patto di stabilità per gli enti locali, le procedure lunghe e complesse, le tante ma disorganiche modifiche del codice degli appalti, i ritardi negli stessi appalti che producono allungamento di tempi e soprattutto aumenti di spesa. È chiaro che se il settore delle infrastrutture non funziona, il rilancio dell'economia e la crescita sono in grave difficoltà. Ecco perché noi la interroghiamo per sapere che cosa intenda fare in forma urgente per invertire la tendenza rispetto al settore che lei guida per questo governo. La ringrazio. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Lupi ha facoltà di rispondere. Ringrazio gli onorevoli interroganti perché hanno posto l'attenzione del Governo e del Parlamento e di chi ci sta vedendo e ascoltando da casa a un tema fondamentale. Il problema non è che cosa si ha intenzione di fare, ma che cosa si è fatto in questi mesi perché è una questione condivisa da tutti, condivisa dal Governo, condivisa dal Parlamento, ma condivisa in tutta Europa e in tutto il mondo, è che le risorse messe per le infrastrutture non sono dei costi ma sono degli investimenti. Sono un volano non solo per la crescita immediata, per il ritorno alla crescita, ma sono un volano nei tempi della loro realizzazione e nella certezza della loro realizzazione per la competitività del sistema Paese. Io ricordo solo ai colleghi interroganti a chi ci ascolta che la competitività di un Paese passa attraverso lo sviluppo competitivo e infrastrutturale dello stesso Paese. Le imprese oggi pagano più il 20% rispetto alle altre imprese, quelle tedesche o francesi, riguardo ai costi della logistica. Per questa ragione, nonostante il contesto che gli interroganti hanno ovviamente correttamente fotografato, che è quello ovviamente del percorso al contenimento dell'indebitamento pubblico e quindi di conseguenza delle scarsità di risorse che sono messe a disposizione per gli investimenti pubblici, il Governo si è mosso in tre direzioni. La prima, quella di individuare in maniera chiara e certa le priorità su cui mettere le risorse che sono a disposizione. La prima priorità è quella di scegliere razionalmente le opere strategiche, le grandi opere che sono immediatamente cantierabili e che sono pronte. La seconda priorità è che non basta solo mettere risorse sulle grandi opere, ma bisogna mettere risorse e dare risorse. Il decreto del fare dello scorso anno, la legge di stabilità approvata per il 2014. I primi provvedimenti nel corso di questi mesi vanno in questa direzione, ma anche per la prevenzione, la manutenzione straordinaria, la manutenzione straordinaria del territorio, delle infrastrutture, dei ponti, dei viadotti, delle reti ferroviarie. Il terzo elemento fondamentale è la discussione che voi sottolineate, concludo Presidente, riguardo al patto di stabilità in Europa e al patto di stabilità interno nel nostro Paese. La posizione già espressa dal Presidente del Consiglio Renzi, anche in queste ore, è quella di lavorare perché l'Europa cambi, cambi radicalmente, in particolare riguardo all'atteggiamento delle risorse che vengono messe a disposizione dei diversi Paesi per la realizzazione delle infrastrutture e delle reti TEN, cioè delle reti strategiche, e per quanto riguarda la manutenzione e le risorse che vengono messe per la manutenzione straordinaria di prevenzione sul territorio. Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e concludo, già le prime indicazioni, sia nella legge di stabilità 2014, che prevedono un miliardo di euro per la prima volta a disposizione dei Comuni per sforare dal patto di stabilità per la realizzazione delle opere, e poi nella spending review, c'è qui il Ministro dell'Economia, l'indicazione nell'articolo che, per quanto riguarda le risorse investite nella ristrutturazione degli edifici scolastici, queste vengono escluse dal patto di stabilità, mi sembra, indichino non un'intenzione, concludo Presidente, ma la strada giusta da percorrere, insieme perché tutti condividiamo che le infrastrutture sono non un costo ma una risorsa per un Paese. La ringrazio. Facoltà di replicare il deputato Lafranco, a due minuti. Grazie Presidente. Signor Ministro, io ho ascoltato con attenzione quello che lei ha detto, che in linea teorica è assolutamente condivisibile. Purtroppo resta il quadro attuale di questa situazione, che crea grave preoccupazione tra le nostre imprese e che continua a non dare quelle risposte in termini di sviluppo infrastrutturale ai nostri territori. Sviluppo infrastrutturale che dovrebbe rappresentare non solo il volano per la crescita e lo sviluppo, ma anche una capacità logistica più significativamente efficiente per le nostre imprese e per la loro competitività.